Musica Questo è un momento storico e dimostra la credibilità dell'Unione Europea, la forza dell'Unione Europea, la decisione è presa, apriamo le discussioni con l'Ucraina e con la Moldavia. Per quanto riguarda l'allargamento è molto chiaro che si tratta di una situazione vantaggiosa per tutti, l'Ucraina dovrebbe ricevere il sostegno morale, politico e finanziario che merita e di cui tutti noi abbiamo bisogno per la nostra sicurezza. Lo stesso vale per la Moldova, la Georgia e la Bosnia-Zegoria. Sono assolutamente sicuro che questo sia il dibattito necessario qui in Europa, dobbiamo compiere progressi in questo processo di adesione. L'allargamento è una decisione dell'Unione Europea e soprattutto, nel caso dell'Ucraina, riteniamo che sia un segno necessario, che sosteniamo le attività di Ucraini per soddisfare tutte le misure che abbiamo chiesto loro di rispettare. La posizione ungherese è chiara, l'Ucraina non è pronta per iniziare i negoziati per l'ingresso nell'Unione. È completamente senza senso, è irrazionale e incorretto iniziare i negoziati in queste circostanze. Dieci anni fa in Ucraina le persone si sollevarono sotto le bandiere dell'Unione Europea e questo fu per loro un simbolo di fiducia e dovrebbe rimanere tale. Vi chiedo una cosa oggi, non tradite le persone e la loro fede nell'Europa. Ci sarà pace quando raggiungeremo i nostri obiettivi, che non cambiano. La denagrificazione in Ucraina, la smilitarizzazione, il suo status neutrale. Buongiorno cari telespettatori, allora c'è stato lo storico via libera da parte del vertice europeo ieri per l'inizio dei negoziati per l'ingresso, l'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Avete sentito le parole soddisfatte di molti protagonisti di questo vertice. Zelensky ha detto che è una vittoria ovviamente per il mio paese e per l'Europa. Grande soddisfazione, espressa anche da Giorgia Meloni, che ha detto che l'Italia ha giocato un ruolo di primo piano rispetto a questo via libera. Intanto non c'è però accordo tra i 27 a proposito del bilancio comunitario, che è un altro capitolo di estrema importanza. Tutto sembra essere stato rimandato all'inizio del prossimo anno, al 2024. C'è stato però un altro via libera, al dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, proprio mentre ieri dalla Russia, da Mosca, tornava a parlare Vladimir Putin durante la conferenza stampa di fine anno. Avete sentito le parole nette di Putin a proposito della guerra in Ucraina. ha fatto anche Putin un'apertura, diciamo, agli Stati Uniti, dicendo che insomma i rapporti potrebbero anche essere ripresi, se ci sarà però, ha sottolineato Putin, rispetto reciproco. Poi c'è, sullo sfondo, sempre la questione del nuovo patto di stabilità. Ovviamente nel vertice se ne è parlato. Ci sono ancora forti resistenze da parte dei cosiddetti paesi frugali. Su maggior flessibilità, Giorgia Meloni sembra aver trovato la sponda della Francia di Macron, ma vedremo, insomma, è un negoziato ancora che non si è concluso. A completare il quadro, diciamo, della giornata di oggi, oggi sarà una giornata difficile in molte città italiane per il nuovo sciopero nel settore del trasporto locale, del trasporto pubblico, fino a quattro ore di sciopero, fino alle 13. C'è stata la presentazione di Salvini, del ministro Salvini, ma, insomma, sembra che ci saranno anche i cosiddetti bus lumaca nelle grandi città. Vedremo poi come andrà questa nuova protesta, questo nuovo sciopero. Allora, sono con noi, intanto vi presento i nostri ospiti. Francesco Giubilei di Nazione Futura, bentornato Francesco. Saluto Alessandra Ghisleri, ciao Alessandra di Euromedia Research, bentornata. Buongiorno, io non sento nulla, scusate. No, sei stata bravissima a risponderci. Adesso vediamo se ottimizziamo, sistemiamo il collegamento, lo dico al nostro regista fondamentalmente. Do il bentornato a Luigi De Santis, vicepresidente di Ance Giovani, bentornato. Buongiorno a voi. Per la maggioranza saluto l'onorevole Luca Toccalini della Lega, europarlamentare della Lega, bentornato. Buongiorno a tutti, anch'io ho il problema di sentire pochissimo. Adesso vediamo, abbiamo un problema di audio, lo risolveremo anche perché un dialogo tra sordi non sarebbe l'ideale e per l'opposizione per il Partito Democratico è con noi Annalisa Corrado che saluta e ringrazio, che è responsabile clima e ambiente del Partito Democratico e da sempre un'ecologista convinta, mettiamola così. Convintissima. Convintissima. Adesso poi parleremo anche, io ho fatto un po' il quadro della giornata, parleremo ancora di COP28, insomma di quella corda sorpresa che è stato raggiunto nonostante gli scetticismi della vigilia a Dubai. Allora vorrei partire da Francesco Giubilei. Che segnale è questo dell'Europa che si divide su molte altre questioni? Peraltro ricordiamo che Orban, lo ha detto chiaramente, si è messo di traverso, è uscito al momento del voto perché c'era una questione di unanimità, però ha bloccato, ha messo il veto a 50 miliardi di nuovi aiuti per l'Ucraina. È un segnale senza dubbio importante ed è una decisione storica per l'Unione Europea l'adesione dell'Ucraina e della Moldova. La posizione ungherese è una posizione di contrarietà a dare ulteriori aiuti all'Ucraina che nasce, se vogliamo, dal legame che ha l'Ungheria anche nei confronti della Russia per quel che riguarda l'energia, il fatto che gran parte del fabbisogno energetico ungherese dipende dal gas russo. Nasce anche, aspetto che viene poco sottolineato e ricordato, dal tema delle minoranze ungheresi che vivono in Ucraina, nel territorio della Transcarpazia, c'è una minoranza ungherese importante di circa 150 mila persone che ha avuto storicamente degli attriti anche con gli ucraini, quindi di etnia maggiara e gli ucraini sono di etnia slava. Detto ciò, è anche importante però porre l'attenzione come Italia sulla necessità che avvenga quanto prima possibile l'adesione dell'Albania, della Macedonia e del Nord e di tutti quei paesi nell'area dei Balcani. Non ci dimentichiamo che è stato avviato un processo da ormai molti anni nei confronti dell'Albania. La Macedonia e del Nord ha addirittura cambiato il nome con un referendum, cambiato il nome della propria nazione per evitare che vi fosse un conflitto con la Grecia che non voleva che si chiamasse solo Macedonia, c'è poi il caso della Bosnia e Herzegovina. Però lì diciamo è molto più lontana la questione. Lì è molto più lontana, esatto, sia la Bosnia che anche la Serbia, poi visti anche i rapporti con la Russia. Però io credo che fatto questo passaggio importante di adesione dell'Ucraina sia ora necessario cercare di accelerare quanto più possibile l'adesione anche dell'Albania e della Macedonia. Sì, mentre qualcuno si interroga a proposito di questa Europa, visto che si parla di allargamento, si dovrebbe arrivare a 35-36 paesi, è difficile governarla adesso, qualcuno dice come faremo a governarla, ma questo meriterebbe un'altra puntata, questo approfondimento. Sì, anche perché il caso dell'Ucraina è molto noto, il caso della Moldova invece ci sono dei problemi anche legati a degli standard che oggettivamente da un punto di vista economico e mancano in questi paesi. La Moldova è una nazione molto povera, lo stipendio medio è sui 200-300 euro e al netto di Cisina, che è la capitale, che peraltro c'è anche un tema di rapporti con la Romania, perché un terzo degli abitanti della Moldova ha anche il passaporto rumeno, c'è però un tema di povertà. Altro elemento, e concludo, importante nella Moldova è il fatto che si sta cercando un'adesione di questo paese per cercare di slegarlo alla Russia, perché c'è il caso della Transnistria, che è un territorio che la Russia considera a sé vicino, ci sono addirittura le basi militari russe, c'è il caso anche della Gagautia, che è una regione all'interno della Moldova, una lezione di geografie e di geopolitica, che comunque è legata al territorio russo, quindi è una scelta anche geopolitica dell'Unione Europea per avvicinare la Moldova a noi e non alla Russia. Allora poco fa dicevamo di Orban, poco fa Orban ha detto l'Unione Europea sblocchi tutti i nostri fondi oppure ha ribadito niente aiuti a Chieva, ovviamente per quanto riguarda la posizione, eccolo qui Orban ungherese, dice noi non vogliamo la metà o un quarto dei fondi che ci spettano, ma li vogliamo tutti. Insomma, peraltro non è un segreto che è inferoscito con Orban il presidente francese Macron, insomma che anche insieme alla Germania e all'Italia ha fatto una fortissima pressione a proposito dell'inizio dei negoziati per l'ingresso dell'Ucraina. Annalisa Corrado, è una buona notizia questa o no? Ma sì, certamente è una buona notizia. Noi siamo in un momento storico in cui le crisi che attraversiamo sono crisi sempre più globali, sempre più che superano i confini singoli nazionali e che superano sicuramente la portata di azione nazionale del singolo paese. Quindi l'idea che l'Unione Europea si rafforzi e tra l'altro includa anche una nazione che ha ricevuto una fortissima solidarietà da parte dell'Unione Europea che in questo modo può anche concretizzarsi in maniera più forte, può anche essere un potere negoziale più forte nella scacchiera internazionale, sicuramente è una buona notizia. Ovviamente c'è moltissimo da lavorare, c'è moltissimo da fare appunto sia sul presente che anche su queste nuove aperture di fronti, quindi è un lavoro che inizia ma insomma è un risultato importante. Ma lei è per l'allargamento di cui si parla? Diciamo è favorevole all'allargamento dell'Europa o no? Ma sì, l'allargamento dell'Europa ovviamente deve avvenire sia nel rispetto di quelli che sono i parametri che ci siamo dati con gli altri paesi dal punto di vista della stabilità economica eccetera, ma anche poi e soprattutto dal punto di vista anche del rispetto dei diritti, della possibilità che l'Unione Europea mantenga anche alti i valori e sia anche portatrice di questi valori nei paesi in cui sono ancora messi in discussione, ma anche al suo interno. Cioè ci sono dei paesi in cui questi valori sono messi in discussione e quindi è un'unione importante anche da questo punto di vista per supportare quelle democrazie che in alcuni momenti storici fanno fatica e tornano indietro. Allora, abbiamo forse ripristinato al meglio, stiamo ancora testando i collegamenti con sia Luca Toccalini che Alessandra Ghisleri, noi andiamo in pubblicità, riparto proprio dall'Onorevole Toccalini, dopo la pubblicità. Allora andiamo da Toccalini, finalmente speriamo di vederci e sentirci bene, allora come saluta questo accordo tra i 27 sull'Ucraina? Un accordo sicuramente positivo che ribadisce ancora una volta la posizione dell'Unione Europea nei confronti del conflitto tra Russia e Ucraina, dopodiché condivido pienamente che innanzitutto non è che da oggi l'Ucraina è in Unione Europea, ma sarà un percorso lungo tanti anni, come nel caso che vedivano citati studio, ma soprattutto il fatto che alla fine di questo percorso che riguarda l'Ucraina, la Moldova, ma tante altre nazioni che stanno scegliendo liberamente di venire accolte nella famiglia dell'Unione Europea, andrà rivisto sicuramente qualche regolamento, perché passare da 27 a 35 e giustamente vedendo già le difficoltà che oggi ci sono a chiudere qualsiasi partita politica o geopolitica nei consigli europei, ci mette di fronte comunque a una decisione che andrà sicuramente presa di modificare qualche regolamento. Ieri c'è stato un grande lavoro di diplomazia che ha permesso di non avere il diritto di veto da parte di Orban sulla questione dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, però magari sui giornali e in televisione vediamo la parte finale, ma sono lavori che vanno avanti giorni, settimane se non mesi, quindi arrivare a una decisione condivisa ogni volta è sempre complicato e lo stiamo vedendo anche sul patto di stabilità, però è chiaro che l'Unione Europea non può e non deve contare solo su Francia e Germania e in questo caso Italia, ma deve essere consapevole di far parte di una famiglia più grande che composta di 27 persone, quindi da questo punto di vista credo che qualche regolamento, ripeto ognuno è ovvio che abbia le proprie peculiarità, le proprie richieste e quant'altro, però se vogliamo dare un messaggio forte a livello internazionale è chiaro che dobbiamo farci vedere più compatti possibili e credo che il segnale che sia stato ieri vada esattamente in questa direzione. Allora, vado ad Alessandra Ghislevi intanto per chiederle una prima sua valutazione su quanto tutto questo scaldi gli italiani, mettiamola così, non soltanto la questione ucraina ma anche la questione dell'allargamento. Gli italiani non è che sono molto attivi su questo, nel senso che nei confronti del governo guardano nel rapporto con l'Europa quello che potrebbe essere un vantaggio e quindi sicuramente di più, anche se non con grandissima passione e interesse al tema del Messe, molto di più quello del PNRR perché viene letto assolutamente come una chiave di accesso per poter avere dei fondi e migliorare la situazione in cui l'Italia si trova in determinate aree. Anche se ovviamente le persone quando vengono intervistate sono sempre molto restie a dare dei loro giudizi totalmente positivi in determinati settori proprio perché fanno più facilità nel giudicare ad esempio la necessità di interventi sulle strutture sanitarie, la necessità di interventi sulle strutture delle case sociali, delle social housing e così via e quindi su quello hanno un'attenzione molto più spiccata. Di sicuro quello che interessa all'Europa è sicuramente il patto con l'Albania che è stato comunque sospeso e che comunque interessava perché riponeva al centro la questione dei migranti, e quindi anche questo era un tema molto sentito più che altro perché avrebbe aiutato il nostro paese in una diffusione di quelli che erano anche in altri paesi, di quelli che sono le persone che arrivano nel nostro paese. Poi però leggiamo stamattina quello che è accaduto e che hanno scoperto nel centro di raccolta Corelli. Possiamo anche comprendere che forse la situazione è meglio ripristinarla internamente prima di andare al di fuori. Sì, 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 condizioni spaventose, insomma c'è stato l'intervento della magistratura. Allora facciamo così perché lo anticipava prima Toccalini, c'è tutto il patto di stabilità ancora pieno negoziato sulla riforma del patto di stabilità e c'è la questione messa. Adesso vi faccio vedere due cose, però voglio coinvolgere Luigi De Santis perché Alessandra Ghisleri diceva che gli italiani interessa anche il PNRR, cioè che fine farà questo fiume di soldi che arriva dall'Europa. Lo chiedo a Luigi De Santis perché lancio che l'Associazione Nazionale dei Costruttori ovviamente è parte in causa di tutto quello che riusciremo a portare a casa con il PNRR. Questo sicuramente perché tra l'altro gran parte degli investimenti legati al PNRR coinvolgono direttamente il mondo dell'edilizia, il mondo delle infrastrutture che ricordiamo è un mondo che se fa passi in avanti fa fare un passo in avanti all'intera nazione. È evidente che il tema infrastrutturale, il tema anche dei fondi sulla rigenerazione urbana, di tutto l'ammodernamento del nostro Paese non solo da un lato crea incredibili fonti di lavoro per le imprese e per i lavoratori, ricordiamolo, ma soprattutto dota l'Italia anche di una rete infrastrutturale, di una rigenerazione urbana che talvolta ricordiamoci è fondamentale sottolineare che è una rigenerazione di carattere sociale perché molto spesso abbiamo visto che le periferie delle città sono state abbandonate e questo ha determinato veramente un deterioramento delle condizioni proprio sociali. È evidente che l'Europa viene secondo me percepita in maniera differente a seconda di quello che ogni italiano poi ogni giorno fa. È evidente che c'è un mondo legato più alle attività economiche che è più interessato ad alcune tematiche e c'è un mondo invece di persone che non si occupano di fare attività di imprese che sono più interessate all'Europa per quello che l'Europa può dare in termini di servizi. C'è da dire anche una cosa per tornare velocemente sull'argomento di prima è evidente che come si diceva poche anzi in studio questo passo in avanti nei confronti dell'Ucraina innanzitutto suona come un segnale di dire l'Ucraina è dal lato nostro e non lasciarla al campo avversario è evidente anche che Zelensky negli ultimi settimane ha avuto comunque due segnali positivi sia dagli Stati Uniti, sia per quanto diciamo molto sudati come risultati raggiunti oggi dall'Unione Europea, è evidente anche quello che diciamo poc'anzi gli standard, la vera sfida poi sarà quella di rendere un'Unione Europea non solo che funzioni ma con degli Stati che abbiano i medesimi standard perché poi è evidente che le politiche dell'Unione Europea Entrò un attimo, diciamo lo diceva forse prima Giubilei intanto dobbiamo pensare che questi negoziati saranno molto lunghi poi l'Ucraina è un paese da ricostruire cioè non è, mettiamoci bene nella testa che al di là dell'adesione futura quando verrà ci sarà tutto un percorso a guerra finita per la ricostruzione Diciamocelo onestamente chi dice che oggettivamente l'Ucraina è in una condizione ma è oggettiva, non proprio ideale forse per iniziare un processo non dice una cosa totalmente Si tratta di dare un segnale simbolico diciamocelo anche con concretezza lo dicevamo poc'anzi anche Orban esce e consente l'unanimità anche perché contestualmente gli vengono sbloccati 10 miliardi di euro quindi poi c'è una, diciamo così ma è giusto che sia fatto così c'è una geopolitica di facciata c'è una geopolitica fatta di concretezza non a caso Orban che, diciamo così a prescindere se si possono sposare o meno le sue posizioni uno molto concreto oggi ritorna dicendo non ci bastano i 10 miliardi abbiamo necessità di fare molto di più la politica europea si fa poi di atti concreti poi è evidente che, ecco, per tornare al punto della sua domanda e concludere, il PNRR riguarda gli atti concreti abbiamo una scadenza importante Lancia, ma come penso tutti i settori politici e tutti i cittadini vogliono far fruttare questi soldi che ricordiamoci in gran parte sono soldi a debito quindi non abbiamo assoluto dove far bello voglio riprendere la questione del MES sia perché Alessandro Ghisleri ci ha portato una domanda e una risposta ovviamente degli italiani su questa questione sia perché ieri proprio qui sulla setta, Piazza Pulita ha parlato di questo sia Romano Prodi sia Luigi Di Maio Luigi Di Maio tirato in ballo, come sapete, pesantemente da Giorgio Abeloni l'altro giorno in Parlamento quando ha mostrato il famoso fax sul MES vediamo l'idea di bloccare il MES e poi in questo caso è una roba un po' strana perché il MES è una scommessa in cui uno non ci rimette niente al massimo non lo applica e allora è chiarissimo che può essere solo un tentativo di ricatto allora questo di solito produce irritazione vedremo se anche in questo caso produce irritazione ma poi alla fine la prova perché è un'amica alternativa a costo di un isolamento ma nessuno lo capisce ci sono delle battaglie in cui uno poi alla fine trova degli alleati in questo non si è mosso nessuno la signoria vostra è autorizzata a firmare l'accordo recante modifica del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità firmato Luigi Di Maio questa firma è stata fatta un giorno dopo le dimissioni del governo Conte ciò che dice di falso mi dispiace dirlo è che in qualche modo io abbia in qualche modo firmato il mandato all'ambasciatore per l'ultimo atto di firma del MES in un momento in cui non ero nel pieno dei miei poteri perché il governo Conte era già accaduto quel documento che lei agita io stasera non agiterò documenti mi consentirà questa cosa quel documento che il presidente del consiglio agita in senato porta una data sopra vediamola 2021 20 gennaio 2021 questo è l'altro no no quello di prima quello di prima Calvi esatto quello di prima eccolo qua 20 gennaio 2021 20 è al contrario 2021 1 20 ok il governo Conte è caduto il 26 gennaio del 2021 quindi io quando ho firmato l'atto il governo era nel pieno dei suoi poteri e vorrei dire una cosa su questo perché è molto importante io sono abituato a ricevere attacchi di tutti i tipi da quando ho messo piedi in politica e fa parte del gioco però che si dica che anche gli ambasciatori del corpo diplomatico italiano siano stati complici in una teoria cospirazionista questo non è giusto allora così ieri di maio così ieri di maio replicando a Giorgia Meloni e vado da Toccalini per chiedere a Toccalini una cosa però che nasce dalla lettura dei giornali di oggi perché leggo che la Lega si è ammorbidita sul MES avete fatto un'apertura al MES ancora ieri o l'altro ieri Salvini ha detto per noi non se ne parla proprio capisco l'intervista a cui si fa riferimento che dovrebbero essere dei virgolettati di Riccardo Molinari del nostro capogruppo che non parla di ammorbidimento ma semplicemente sottolinea una verità ovvero che la questione in questo momento in campo non è l'accesso al MES ma è la ratifica del trattato quindi una cosa totalmente ben diversa quindi non è una questione di ammorbidirsi o meno la Lega come è noto lo abbiamo detto tante volte anche in questa trasmissione la Lega ha sempre avuto una posizione molto netta chiara e contraria nei confronti dello strumento del MES e quindi questa posizione tende ancora ad avere oggi come ieri come avrà molto probabilmente anche domani quindi io capisco anche il ragionamento del Presidente del Consiglio di prima chiudere la partita sì molto più importante del patto di stabilità dove chiaramente ci giochiamo il futuro sia dal punto di vista economico ma dal punto di vista di investimento e di crescita del nostro Paese e dopo poi visto che la fretta di ratificarlo questa settimana evidentemente non c'era si parlerà sicuramente si tornerà a parlare di MES perché è chiaro che non si vuole sfuggire dall'aula è solo una questione di tempistiche che noi reputiamo oggi essere totalmente inutili da affrontare in questa settimana che è appena conclusa ma sicuramente a gennaio sarà uno dei temi che porteremo in aula e verrà affrontato con le dovute attenzioni con le dovute poi decisioni che ogni partito della maggioranza prenderà come ha detto Prodi tanto alla fine lo approverete questa ratifica la voterete ma per quanto ci riguarda non è all'ordine del giorno approvarla come Lega dopodiché ripeto ci sono altre partite in campo in questo momento e vedremo poi visto che siamo un governo unito e coeso di trovare insieme una soluzione appunto poi per uscire da questo impasse dove credo che poi potrà confermarlo anche la dottoressa Ghisleri sulle tavole a Natale dei cittadini non credo si parli di MES ma credo si parli di Benalto quindi capisco l'intenzione di incentrare il tema su una tematica complicata difficile non percepita dai cittadini però evidentemente stiamo dando in queste settimane alte proietà a livello parlamentare tra cui evidentemente la legge di bilancio e sì sappiamo che peraltro c'è stato un vertice tra maggioranza e opposizione ieri e credo si sia in qualche modo concordata si è concordato il cronoprogramma insomma ma abbiamo capito che si arriverà anche quest'anno come peraltro avviene da molti anni agli ultimi giorni di dicembre per l'approvazione definitiva della legge di bilancio allora torno ad Alessandra Ghisleri ecco la domanda posta da Euromedia Research vediamola come richiesto dall'Unione Europea l'Italia deve ratificare e sottoscrivere la riforma del MES in un accordo che non danneggi ovviamente il nostro paese guardate le risposte ecco così Alessandra ci puoi raccontare il dettaglio di queste risposte noi siamo arrivati a questa domanda facendone una precedente che non è stata pubblicata però ve la dico perché noi abbiamo chiesto se le persone conoscono di che cosa si parla quando si parla di meccanismo europeo di stabilità e devo dirvi che se il 44% degli italiani ha dato una risposta che entra nella proposizione corretta ben il 37,6 quindi il 38% ha dato una risposta errata e il rimanente 18,7 non ha saputo rispondere quindi quando noi parliamo di MES noi dobbiamo anche raccontare agli italiani di che cosa si tratta perché ovviamente prima di arrivare a questa risposta noi abbiamo dovuto raccontare a tutti di che cosa si trattava è per forza perché altrimenti anche questo 47,3 che è trasversale nell'elettorato perché diciamo che è un dato che è molto alto nell'elettorato del PD perché questo si rappresenta per l'elettorato del PD quasi il 77% si ha per azioni quasi il 90% come per Italia Viva mentre per tutti gli altri partiti ad esempio i partiti della maggioranza viaggiano proprio intorno al 40% è un tema forte perché ad esempio i paesi che risiedono cioè le regioni del nord sono molto più favorevoli rispetto a quelle del sud ed è un tema sentito forse anche perché non si conoscono bene tutti quelli che sono i diversi contorni che riguardano proprio il meccanismo europeo di stabilità e su questo argomento anche come dire nei rapporti internazionali tra Italia e Europa è stato anche dato un buon giudizio a Giorgia Meloni cioè hanno promosso rispetto a quello per il 41,9% e dovete tenere conto che l'indice di fiducia della nostra Premier si aggira tra il 37 e il 40% ultimamente era un po' sceso perché con insomma le prime indiscrezioni su quelle che sono le le soluzioni per la manovra di bilancio non è che hanno fatto impazzire tutti gli italiani però il buon giudizio arriva soprattutto da più del 90% della parte elettorale che sostiene la maggioranza chiaro molto chiaro intanto allora devo andare in pubblicità adesso poi sentiamo gli altri nostri nostri su questa questione intanto da Bruxelles arriva la notizia che si va verso un vertice europeo straordinario ad inizio del 2024 quindi tra pochi giorni insomma per capirci per chiudere i negoziati sulla revisione del bilancio 21-27 come appunto vi anticipavo prima quindi non c'è un accordo e si rinvia questa questione che è molto cruciale e molto delicata per l'Europa mi verrebbe una battuta forse facile facciamo passare le feste poi ne riparliamo andiamo in pubblicità ci vediamo tra poco allora l'analisi a Corrado a proposito di MES perché il Partito Democratico spinge ovviamente per questa ratifica quello che mi viene da dire prima ragionavo su le cose che venivano dette è che siccome anche il MES è diventato soggetto di disputa di contrapposizione tra le parti poi farsi un'opinione diciamo più scevra da condizionamenti non è semplice anche perché già la materia è complicata di per sé sì 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 la materia è complicata oggettivamente quindi anche per questo c'è un certo disinteresse da parte delle persone perché giustamente si fa anche fatica a comprendere bene tutti gli effetti poi di queste ratifiche o meno il problema però qual è? che se tu brandisci appunto una cosa complessa come una clava perché il MES è stato in questo paese una clava dell'anti-europeismo dell'Europa cattiva che ci vuole strangolare poi quando ti trovi di fronte al fatto che tutti i paesi invece dicano ratifichiamo andiamo avanti se poi non vi piace non lo usate cioè lo tenete lì come uno strumento che serve eventualmente ai paesi che ne hanno bisogno ma non è che siete obbligati ob torto collo a utilizzare il sistema di salvaguardia allora a quel punto come dice Prodi alla fine lo ratifichi che fai solo che mi rendo conto che appunto quando hai fatto una propaganda mistificando anche il senso di quello strumento a un certo punto quando devi scendere a più o meno i consigli lo devi fare però scusi quando la maggioranza dice a partire diciamo da Giorgia Meloni in giù dice noi dobbiamo però considerare tutto questo in un'ottica complessiva di pacchetto perché c'è il patto di stabilità c'è il MES c'è l'unione bancaria cioè ma c'è ma magari lo facessero tutto si tiene però tutto si tiene non se hai un atteggiamento del genere perché come anche prima diceva Prodi se tu ti metti di traverso al MES che è assolutamente sensato come richiesta che ti fanno cioè ratificarlo e pensando che questo sia un'arma che hai negoziale sul patto di stabilità è completamente sbagliato politicamente cioè anche il lavoro sul patto di stabilità è stato tutto sbagliato dall'inizio cioè l'estate scorsa noi paesi più indebitati potevamo fare alleanza per esempio con la Francia insomma c'è tutto un filone di paesi che stanno più o meno nelle nostre condizioni che stavano cercando di tenere con la stessa proposta della Commissione cioè di arrivare verso una stabilità diversa da quella che abbiamo conosciuto prima della crisi Covid eccetera cioè di avere la possibilità di negoziare con la Commissione a seconda delle condizioni del singolo paese come rientrare nei parametri prestabiliti invece il governo Meloni sta facendo tutto un gioco a ribasso per stare più tranquillo sui parametri nei prossimi anni arrivare alla fine di questo mandato di governo e però intanto abbiamo perso l'occasione di fare squadra con i paesi giusti mi verrebbe da dire vediamo perché la negoziazione è in corso quindi vediamo qualcosa riusciremo a spuntare ormai il compromesso è molto a ribasso perché il fronte che poteva essere il nostro utile non è stato portato avanti vediamo sento Alessandra che si legge su questo cioè quanto che percezione c'è da parte degli italiani che ci stiamo giocando una partita molto importante su questo patto di stabilità anche perché già qualcuno comincia a parlare di ritorno dell'austerity e sappiamo che vuol dire l'austerity allora il tema vero è che il rapporto con l'Europa è proprio un rapporto di negoziazione questo gli italiani lo hanno capito molto bene anzi suggeriscono di utilizzare ovviamente come dire l'arma dell'exit dell'essere in supposizioni molto rigide proprio in un momento in cui si cerca di includere altri paesi all'interno dell'Unione Europea come per imporre proprio quelli che sono i nostri perimetri è un tema forte soprattutto perché non solo non si conoscono come dicevamo prima tutti diciamo i dettami ma il fatto stesso che possano arrivare dei soldi per il nostro paese e risolvere quelle questioni che sono fondamentali diventa importante il fatto più importante però è legato proprio all'inflazione all'alzamento che non è stato fatto nella giornata di ieri dei tassi e questo è la parte che diciamo il nervo dolente di tutta la situazione perché gli italiani soprattutto quelli che hanno avuto la fortuna di potersi comprare una casa si trovano in questo momento molte famiglie si trovano in vera difficoltà e non solo quelle famiglie che hanno una casa si sentono poveri anche coloro che hanno un lavoro povero si sentono esclusi dalla società ed emarginati anche tutti coloro che come dire desidererebbero riuscire a risparmiare qualcosa ma non riescono a fare la quadra e quindi non riescono a pianificare il 2024 il tema porta ad avere paura in un certo senso anche se c'è ancora grande fiducia in quello che potrebbe accadere nel nuovo anno un po' perché gli italiani sono forse un pochino più ottimisti di quello che spesso ci viene raccontato e anche un po' perché non si conoscono tutte le ragioni di quello che sta accadendo sicuramente il tema dell'aumento dei prezzi connesso anche all'aumento dei tassi il fatto dell'impoverimento il tema delle tasse perché la paura vera è quella soprattutto in un periodo come questo dove dobbiamo anche chiudere l'anno portando anche iniziare a pagare le tasse rispetto a quelli che sono determinate situazioni ad esempio sulle seconde case dove è stata la proposta l'aumento dell'IMU e lasciare libero a determinati comuni ecco tutte queste situazioni spaventano e altre producono addirittura rabbia e quindi anche tutto questo va messo in un quadro più completo per poter affrontare il 2024 Allora a proposito di inflazione c'è l'Istat che ci aggiorna proprio poco fa intanto l'inflazione acquisita per quest'anno è a più 5-7% e poi c'è stato a novembre il mese scorso un rallentamento dell'inflazione relativa al cosiddetto carrello della spesa più 5-4 ma insomma ancora morde come l'inflazione giustamente ricordava Alessandra Ghisleri la decisione ieri della BCE di lasciare invariati i tassi di interesse sulla scorta di quanto ha fatto la banca centrale americana con la differenza che in America stanno già pensando a un ribasso nel prossimo anno mentre la Lagarde ieri che ha una terribile bronchite peraltro l'ha detto lei ha fatto capire che attenzione la lotta con l'inflazione non è finita e per il momento ha detto non vi illudete non si parla di abbassamento dei tassi di interesse tanto per capirci che c'è De Santi se la vedevo no dico che innanzitutto che molti che fanno politica dovrebbero avere passatemi la battuta una Ghisleri nel taschino nel senso che basta parlare con gli italiani per rendersi conto molto spesso che i problemi degli italiani sono quelli italiani che non riescono più a sostenere le rate di mutuo e stiamo parlando di chi si è potuto permettere di acquistare casa sicuramente gli altri italiani non si avvicinano in questo momento con fiducia al mercato immobiliare quindi molto spesso si parla di tante questioni che sembrano calate dall'alto dall'Europa ma poi le cose che interessano sono l'Imu l'inalzamento i benefit per i mutui under 35 che andrebbero sicuramente riprese e riconfermati tasse di mutuo dopodiché una chiusa finale non mi preoccupa troppo questa diciamo polemica sul MES perché ad oggi il governo poi ha dimostrato in qualche maniera di essere anzi sicuramente molto più conciliante di quello che si è detto in campagna elettorale questo non lo vedo come un simbolo di debolezza ma come un simbolo di buonsenso le idee vanno cambiate o adattate al momento in cui ci si ritrova allora devo andare a parlo sotto corolla chiedo proprio un flash Francesco chiedo un flash come pensi che finirà questo faticosissimo negoziato sul patto di stabilità ma le due cose il MES l'approvazione del MES e il patto di stabilità sono due cose non disgiunte io non vorrei che stessimo andando da piccoli passi verso l'inferno ovvero la strada verso l'inferno è la stricata di buone intenzioni per fare un'altra situazione ovvero quale può essere lo scenario peggiore per il nostro paese che si sta purtroppo verificando negli ultimi anni la perdita di sovranità la perdita di sovranità nazionale ora è chiaro che un paese con un debito pubblico molto alto come il nostro peraltro un debito pubblico che è in gran parte in mano a banche o comunque stati stranieri ha una sovranità limitata e continuando a provare determinate manovre come possono essere quella del MES rischiamo di diminuire la nostra sovranità perché è vero che c'è una grande differenza tra la ratifica del MES e l'utilizzo del MES io non vorrei che però in questa fase andiamo a ratificare il MES e poi in un futuro che non sarà questo governo ma può essere tra due governi tre governi con un nuovo governo tecnico non lo so che cosa si aspetterà in futuro poi saremo costretti ad utilizzare il MES che significa commissariemento questo diciamolo in modo ben chiaro ha agitato lo spettro del governo tecnico posso dire una cosa le parole di Francesco Giubilei mi fanno pensare all'intervista di oggi al colloquio di oggi della segretaria del Partito Democratico Elish Line con Repubblica dove dice questo governo non arriverà al 2027 un disastro da tutti i punti di vista secondo me si arriverà questo dice Elish Line non lo so quindi dice di una cosa in più dobbiamo prepararci dice ai suoi e alle opposizioni ci arriverà questo governo a fine legislatura e auspico ne possa fare anche una successiva dico anche però che in passato abbiamo visto nel nostro contesto politico vari governi tecnici abbiamo visto la stagione dell'austerity in particolare dopo il 2011 abbiamo visto nazioni come la Grecia che sono state costrette ad avere delle misure di austerity che si sono rivelate fallimentari quindi il rischio qual è? il rischio è che se noi non rivediamo gli attuali parametri del patto di stabilità e contestualmente andiamo a ratificare il MES ci possiamo trovare in un futuro scenario che perdiamo sovranità ricordiamo che l'altro giorno il Parlamento Giorgio Meloni ha detto non escludo nulla sul patto compreso il veto ma insomma questo è un altro discorso buongiorno Paolo Sottocorola il weekend come si prospetta il weekend? ma tutto sommato se mettete in conto qualche grado in meno di temperatura le cose non vanno male essendo dicembre succede a volte che fa un po' freddo allora la perturbazione sta lasciando anche il sud in questa zona sul basso tirreno c'è qualche precipitazione residua quella che non si vede al momento andiamo a vedere la previsione per oggi è invece la zona del medio adriatico anche del basso adriatico perché i venti si orientano dal nord est e quindi tipicamente con i venti orientali le coste adriatiche e i versanti orientali dell'appennino possono avere precipitazioni di una certa consistenza al momento come dicevo non si vedono ma mettete l'incontro come è possibile nel corso della giornata una certa instabilità interessa ancora il sud ma si attenua infatti siamo già a domani vedete che i fenomeni sempre nelle stesse zone medio adriatico e sud ci sono ancora ma sono molto meno sulle altre zone nord e versanti tirrenici un miglioramento abbastanza netto vediamo anche la giornata di domenica rimane molto poco tutto sommato qualche piccola incertezza al sud cieli sereni e questi cieli sereni sono quelli che ci daranno delle temperature minime decisamente più basse rispetto a quelle dei giorni scorsi ma questa fase fredda se così la vogliamo chiamare dura molto poco perché ai inizi settimana le temperature saliranno di nuovo e appunto data la stagione come sempre non è un bene insomma se non fa freddo adesso quando lo fa grazie e allora subito pubblicità e ripartiamo dalla COP28 dopo la pubblicità è un accordo storico per accelerare le azioni sul clima del UAE consensus ecco tutta la soddisfazione del presidente al Jaber al termine dei lavori della COP28 dopo giorni di infinite trattative quasi a sorpresa si è trovato l'accordo per la prima volta nel documento viene menzionata l'uscita dai combustibili fossili transitioning away per raggiungere le emissioni zero nel 2050 ma il termine transizione è fortemente diviso ben diverso da quello su cui spingevano molti paesi face out cioè una vera eliminazione di petrolio gas e carbone abbiamo chiesto di essere più precisi sulla necessità di eliminare gradualmente combustibili fossili ma è abbastanza chiaro che mettere d'accordo 195 nazioni era qualcosa di più di una salita ibida ma tutti hanno aderito all'accordo e la transizione nessuna road map dunque ma viene ribadita l'importanza di contenere l'aumento delle temperature entro un grado e mezzo nei prossimi dieci anni rispetto ai livelli preindustriali come confermato dalla scienza non è sufficiente riconoscere la scienza bisognava definire le azioni concrete necessarie per rimanere al di sotto del grado e mezzo sono quindi delusa ma quanto è lontano l'obiettivo nella realtà difficilmente possiamo pensare di cancellare in modo immediato le fonti fossili che oggi rappresentano l'80% della produzione di energia ha spiegato Claudio Descalzi amministratore delegato di Eni il problema sono i fondi per la transizione ma la svolta è assolutamente necessaria e va gestita prima che sia troppo tardi certo è che la causa climatica si adatta spesso agli interessi delle singole nazioni le più avanzate e mature hanno mezzi e conoscenze per investire nuove tecnologie le più erretrate hanno maggiori difficoltà a programmare cambiamenti per questo nell'accordo si parla di transizione equa giusta e ordinata e poi ci sono gli interessi dei paesi produttori di fossili lo stesso presidente Jaber a capo una delle più grandi aziende petrolifere del mondo solo pochi giorni fa aveva sostenuto che senza petrolio e gas si tornerebbe all'età delle caverne soddisfatta l'unione europea una parte una parte dell'accordo è veramente made in europe abbiamo proposto l'impegno globale a triplicare l'energia rinnovabile e a raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030 e ora il mondo intero ha provato i nostri obiettivi nella dichiarazione finale se sarà un accordo davvero storico lo dirà il tempo intanto la storia ci insegna che sul clima è difficile mantenere gli impegni allora facciamo subito un 1-2 con Alessandra Chisleri e Luca Toccalini e poi veniamo agli ospiti studio Alessandra Chisleri ma quanto è sentito questo tema perché poi gli italiani nei tanti sondaggi insomma risultano assolutamente consapevoli dei cambiamenti climatici di quello che bisognerebbe fare anche nei comportamenti individuali poi tradotti nella realtà di tutti i giorni non sempre seguono i principi che enunciano mettiamola così no ovviamente si sentono molto vicini alla causa ambientalista tuttavia nell'elenco delle priorità comunque entra nelle primi dieci posti non supera mai cioè non scende mai sotto il settimo posto il dato vero che è un rapporto molto strano perché viene ritenuta la causa ambientalista anche molto vicina ad una causa elitaria solamente per chi non ha problemi con stipendi economia familiare e così via perché loro partono dal presupposto che al di là del comportamento personale quindi al di là di fare sviluppare bene una raccolta differenziata di cercare di non sprecare acqua luce e anche di utilizzare i mezzi di trasporto quelli ovviamente pubblici oppure di muoversi in bicicletta ma al di là di queste quando si affronta il tema della combustione mettendo sul piatto le macchine elettriche e le macchine a combustione si vede proprio una grande differenza perché è certo che la vorrebbero comprare tuttavia il costo è molto più alto quello di un'automobile ad esempio elettrica rispetto a una macchina a combustione e questo la fa sentire praticamente una macchina solo per un determinato tipo di persone che hanno determinate possibilità quindi la causa ambientale viene vissuta come la possibilità di vivere in un ambiente migliore tuttavia sono altre le passioni e le emozioni che sentono le persone anche perché ripeto tutto ciò che è legato all'ambiente riguarda sempre degli investimenti economici molto più importanti e come l'abbiamo scoperto l'abbiamo scoperto con il bonus perché con il bonus edilizio pochissimi sono stati i cappotti realizzati i cappotti termici realizzati per il condominio per le piccole villette e questo già dà l'idea rispetto a quello che poteva essere invece una manutenzione ordinaria di struttura e questo già dà l'idea del rapporto tra gli italiani e l'ambiente e l'ambiente Toccalini le è piaciuto l'accordo se lo aspettava questo accordo raggiunto a COP28 o no anche perché voi siete diciamo tra i partiti di governo forse quello più fortemente critico nei confronti soprattutto delle politiche europee green mettiamola così le auto le case green e via dicendo sicuramente è un accordo importante poi come giustamente veniva sottolineato nel servizio un conto è l'accordo un conto è rispettare l'accordo che sono due cose completamente diverse anche perché dobbiamo ribadire un concetto fondamentale noi non siamo negazionisti climatici come magari qualcuno ci vuole descrivere però è chiaro che contestiamo alcune decisioni dell'Unione Europea che venivano citate anche dalla dottoressa Ghisleri che non allontanano i cittadini dalla questione ambientale perché quando chiedi e obblighi a cambiare l'auto con un'auto da 30.000 euro o a fare una rivoluzione energetica in casa spendendo altri quattrini e non sono pochi è evidente che stai allontanando i cittadini dalla questione ambientale li stai anche spaventando dopodiché bisogna anche sottolineare il fatto che l'Unione Europea può fare tutte le iniziative possibili e già oggi è uno dei paesi è uno dei continenti che ha meno emissioni rispetto ad altri ma nel momento in cui abbiamo altri paesi come la Cina e l'India in particolare o gli Emirati Arabi per quanto riguarda il petrolio che se ne fregano di tutte le politiche ambientali è evidente che rimane una goccia nell'oceano perché l'area che respiriamo poi è la stessa non è che se noi siamo bravi e l'India la Cina o altri paesi se ne fregano allora le nuvolette tossiche vanno da altre parti non rimangono in Italia o non abbiamo noi problemi di inquinamento è evidente che bisogna mettere insieme tutti e come diceva il servizio mettere insieme tutti questi paesi alcuni di questi che vivono e campano per esempio di petrolio è effettivamente complicato io ricordo che in questo momento c'è la Cina che sta prendendo nuove centrali a carbone quindi che sta andando esattamente nella direzione opposta rispetto a quella della gran parte del mondo quindi quella è una riflessione da fare e credo che su quello ci sia ancora tanto da lavorare perché evidentemente le cose così non potranno funzionare l'accordo non verrà rispettato Allora caro Toccalini qui sta facendo spazientire Annalisa Corrado che succede Annalisa Corrado si mettono insieme cose che non c'entrano cioè innanzitutto il clima e l'inquinamento locale sono due cose diverse quindi le emissioni globali di CO2 è vero che sono un problema locale ma la nuvoletta tossica o l'aria inquinata invece dipende strettamente da quello che facciamo noi e la gente ci si ammala le polveri la gente ci si ammala e muore tantissimo in Italia oltre 60.000 persone ogni anno muoiono prematuramente per questa nuvoletta tossica che viene sbeffeggiata quindi insomma io intanto ci metterei un po' più di serietà su questo tipo di argomento perché poi le persone povere che sono quelle che purtroppo si sentono tagliate fuori dalla transizione sono quelle che pagano di più le persone in fragilità economica sono quelle che non hanno la possibilità di avere un condizionamento avere l'aria condizionata ad estate dove ci stanno 40 gradi fissi per tre settimane e abbiamo morti per ondate di calore che sicuramente non sono persone con un grande potere d'acquisto voglio dire non la voglio interrompere volevo fare solo una domanda per essere prati programmatici e farci capire quando si dice per esempio dentro il 2035 basta con la produzione di auto per come siamo abituati tradizionali questo dice l'Europa la Lega dice no bisogna che questo processo sia più graduale siccome l'auto elettrica lo si diceva prima costa l'ira di Dio guardiamo l'Italia noi abbiamo per anni detto dobbiamo assolutamente continuare a produrre le auto endotermiche perché il mondo continuerà a volerle e noi siamo bravissimi a farlo intanto l'industria italiana dell'automobile si è afflosciata completamente come sappiamo addirittura non abbiamo più neanche la proprietà che è andata in Francia c'è la Stellantis adesso le nostre fabbriche le stanno smantellando quasi tutte tra l'altro i nostri operai italiani prendono i pullman e vanno a Parigi a chiedere alla proprietà quando è che ci fate fare le piattaforme dell'auto elettrica perché altrimenti noi siamo tagliati fuori e rimaniamo in cassa integrazione dopodiché l'accordo geniale è quello di fare l'auto elettrica in Slovenia cioè il nostro settore auto è stato smantellato non perché l'Europa vuole l'auto elettrica ma perché il mondo vuole le auto elettriche e noi ci siamo incaponiti per decenni a dire che non è vero non è vero se questa situazione italiana l'Europa così facendo si consegna mani e piedi ai cinesi ma assolutamente no perché noi dobbiamo costruire le filiere se non costruiamo le filiere il PNRR doveva servire anche questo a costruire le filiere industriali che noi non abbiamo costruito che quando nel 2010 nel 2012 abbiamo distrutto tutti gli incentivi per il fotovoltaico perché abbiamo pensato di aver già raggiunto gli obiettivi al 2020 abbiamo fatto un errore storico perché in quel momento che finalmente si cominciava a installare fotovoltaico eolico noi avremmo dovuto insistere diventare eccellenza internazionale il nostro manifatturiero italiano che ha delle eccellenze ancora incredibilmente forti avrebbe potuto fare ma altri paesi europei l'hanno fatto la Germania per esempio l'ha fatto sull'efficienza energetica sulle tecnologie efficienti noi abbiamo perso dei treni allora in questo momento ci vogliamo incaponire a dire perdiamone altri oppure vogliamo dire l'auto elettrica l'efficienza energetica ma non solo l'auto elettrica perché la mobilità sostenibile qui torno al discorso di prima non è mica solo l'auto elettrica è l'ultimo miglio ma le persone con una fragilità economica più forte quanto sarebbero contenti di avere delle città veramente connesse veramente accessibili con del servizio pubblico accessibile a tutti per poterci ma la transizione del servizio pubblico la transizione è questo perché è chi fa credere che la transizione sia l'auto elettrica che ce l'ha con le persone fragili non chi vuole fare veramente la transizione è chiaro che il discorso è molto più complesso non lo si può ridurre all'auto elettrica lei ha ragione De Santis a proposito si citava il super bonus che non è stata operato così tanto per coscienza ambientalista il super bonus era ed è un'incredibile occasione di rigenerazione del patrimonio immobiliare esistente è evidente che paradossalmente quelli che l'hanno utilizzato meno sono le classi alle volte meno abbienti e quindi lì ci doveva essere la vera sfida dello Stato del governo di continuare a mettere nelle condizioni le persone meno abbienti di fare un ricambio c'è da dire anche mi faccio a chiudere con una battuta visto che i tempi sono velocissimi è che la politica si deve anche un po' mettere d'accordo governa per tanti anni e non fa non dà un imprimatur forte su certi cambiamenti e poi diciamo li rievoca dopo ecco bisognerebbe avere coerenza su alcune tematiche che vanno al di là dell'orizzonte temporale dei singoli governi e fanno parte del benessere di tutta la popolazione a prescindere dal credo politico alla prima del flash finale di giubilei vado da Davide ciao Davide buongiorno ciao caro Andrea buongiorno noi partiremo dal professor Bassetti e da Valentina Paolucci che è una pediatra la dottoressa dei bambini molto nota anche nei social perché? perché c'è stato questo boom di ricoveri in pediatria per delle bronchiti gli ospedali del nord che sono in qualche modo stati presi d'assalto cercheremo di capire perché e di che cosa si tratta poi andremo ad Atreiu dove da ieri sera si è aperta la festa di Fratelli d'Italia e uno dei grandi temi identitari della destra è proprio la questione della famiglia e infatti è attesa a breve la ministra la ministra Rocella poi ancora la giustizia con Carlo Nordio ci collegheremo in diretta anche il tema della giustizia sai in questo momento è al centro del dibattito e a proposito di questo ci occuperemo del caso di Ciro Grillo il figlio del fondatore del momento 5 stelle che è sotto processo con altri tre ragazzi con un'accusa gravissima quella di stupro e l'avvocato Antonella Cucureddu che è una degli avvocati dei ragazzi della difesa è accusata di aver posto domande molto molto invasive alla vittima ne parleremo abbiamo grandi ospiti ci sarà Vittorio Feltri Gianfranco Pasquino l'ex ministra della famiglia Elena Bonetti e poi per parlare appunto anche del caso Ciro Grillo Laura Boldrini e l'avvocato Maurizio Paniz pochi minuti e ci siamo in diretta tra poco grazie chiudo proprio al volo con Francesco Giubilei che è un po' controcorrente rispetto a quello che abbiamo sentito i toni trionfalistici dicevi non è andata bene la Coppa perché l'accordo della Coppa 28 è un accordo di facciata se non un vero e proprio fallimento perché è testimonia come non ci libereremo dei fossili da qua ai prossimi decenni ma non lo dico io lo dice l'agenzia internazionale per l'energia che cito testualmente ci dice che la quota di combustibili fossili nel mix energetico globale è rimasta alta intorno all'80% per decenni quindi oggi l'80% del mix energetico del mondo fa parte dei fossili entro il 2030 tale quota scenderà al di sotto del 75% e poco più del 60% entro il 2050 che è la data che è stata fissata quindi i fossili rimarranno anche perché concludo brevissimamente anche perché dobbiamo tenere in considerazione che da qua al 2050 la richiesta di energia globale aumenterà il 50% da parte dei paesi in via di sviluppo è inimmaginabile che le sole rinnovabili possano garantire la stabilità entrambi prossimamente ci tornate perché sono temi che ci interessano molto la coppa ha detto delle cose importantissime il presidente della IEA che viene citato ha detto delle cose fantastiche sulla transizione lui le dice però i dati lo smentiscono ma no sono gli scenari della IEA di questo tema noi ci occupiamo domani un'intera puntata e vedremo le contraddizioni se ci saranno insomma quali saranno le riflessioni dei nostri ospiti quindi domani tutto un discorso sull'ambiente sul clima sulla copp e comunque ci tornate a trovare grazie ad Annalisa Corrado grazie a Francesco Giubilei grazie a Luigi De Santis grazie a Luca Toccalini grazie ad Alessandra Ghisleri siamo qui domani adesso c'è la ragchettina grazie